Ciao a tutti e benvenuti al nuovo Bikinvlog. Dove siamo oggi? Oggi siamo arrivati a Foggia, da Bari abbiamo fatto l'attraversata di 130 km e siamo arrivati a Foggia. Cosa abbiamo visto di Foggia? Assolutamente niente per il momento, ovviamente abbiamo visto solo la piazza mercato, però oggi è sabato sera ragazzi e quindi naturalmente si uscirà fuori, così vi mostrerò e vedremo insieme il sabato sera qua a Foggia. Ma soprattutto, cosa molto più importante, dov'è che stiamo pernottando qui a Foggia? Siamo al Bed and Breakfast, ma è lì, perché è un Bed and Breakfast fantastico ragazzi, un design veramente unico, un sacco di servizi. Andiamo a vedere nel dettaglio, subito l'ingresso, possiamo notare già subito il design naturalmente, un'agenda piena di complimenti e ringraziamenti degli vostri precedenti e un sacco di informazioni vicino alla reception su tutte le eventi, quello che succede qua a Foggia, il wifi, tutte le varie regole, tutte le informazioni che possono esserti utili, tutti sono a parete praticamente, utilissimo. Si va avanti e poi si passa a una piccola sala lettura, con un fantastico scaffale pieno di libri, e non solo di libri, ma un sistema di book crossing, cioè tu prendi un libro e ne lasci uno. Fantastico, inoltre è piena di libri, molto fornita. Successivamente si passa avanti e si va alla cucina, una cucina molto spaziosa e ampia, con tutto quello che può esserti utile naturalmente per cucinarti o recuperarti le tue piccole cibi durante i viaggi, ma il vero pezzo forte sono le camere. A me è stata assegnata una camera matrimoniale ad uso singola, il letto è comodissimo, veramente comodo, posso sicolarlo, e in ogni stanza è fornito un Tuvol Plasma e un frigorifero, ragazzi, un frigorifero dove puoi tenere a fresco tutti i vari cibi che ti sei portato dietro al presso. Il bagno, ragazzi, è fantastico, oltre ad essere bello da vedere è anche comodissimo, la doccia è distribuita benissimo, sali e scendi veramente comodo. C'è voglia di tutto, c'è il phon, e lui ci sono distribuite bene. Il bagno è veramente ottimale, se è comodo a fare ogni tipo di cosa. Cos'altro a dire? Questo veden breakfast contiene tutto, c'è eleganza, un design veramente unico, potete vedere anche dai quadri e comunque da come è distribuita la stanza, è tutto ottimizzato per essere comodo, comodo e nel rispetto, infatti ci sono sempre delle segnalazioni dei cartelli che dicono corrente elettrica, luce, sugar wine, di non spercare nulla di aver rispetto naturalmente per gli altri ospiti. Quindi comunque ha anche un'etica profondamente radicata, possiamo dire. C'è un wifi libero, è un design unico, tu vuol plasma, climatizzatore, frigorifero, c'è veramente di tutto. I prezzi sono comunque anche molto accessibili. Potete visionarli sul loro sito, meli.it, che veramente, dando un qualsiasi tipo di informazione, perché comunque non c'è solo questa camera, ma ci sono altre tipologie di camere, ancora molto più belle, e le registrici sono veramente ospitali e simpaticissime, oltre a essere molto gentili. e che altro dire, se avete voglia di un bed and breakfast, non del solito bed and breakfast, ma di eleganza, comodità e comfort, ai prezzi di un bed and breakfast, che aspettate? Vinta almeno. E naturalmente non perdetevi il santo sera qua a Foggia. Ciao! Ciao!